Ben trovati e bentrovate da Andrea Cartotto. Un nuovo videocorso, quello di oggi, accattivante secondo me perché andiamo a scoprire uno dei progetti di Google meno conosciuti al grande pubblico. Parlo cioè di Google Experiments, un'area, un portale in verità di Google dove non c'è nulla da installare che mixa la tecnologia con altri mondi. Ad esempio nel caso del nostro videocorso, come si può conoscere, come ci si può avvicinare alla musica grazie alla tecnologia? Bene, lo scopriamo proprio con Experiments with Google. Allora, basta un browser, nulla da installare. Una volta nella home page di experiments.withgoogle.com, clicchiamo su search e digitiamo come parola chiave music. Poi andiamo a premere, nel mio caso, invio sulla tastiera. Guardate, ci sono diversi interessantissimi progetti che mi sento di consigliare alla scuola primaria, ai docenti di musica della secondaria di primo grado, nonché ai docenti di tecnologia e anche negli altri casi dove la creatività e la didattica vogliano offrire uno stimolo ai ragazzi. Ora, nel nostro caso naturalmente, vado dritto su shared piano, il piano condiviso. Guardate, vado a cliccare su Launch Experiment, quindi sul pulsante di lancio. E dopo qualche istante per il caricamento, guardate dove veniamo ricondotti. Allora, intanto sposto il mio faccione un pochettino in alto e osservate, click to turn sound on, un click. A questo punto, o utilizzando il mouse, nel mio caso, la tastiera del computer, o una tastiera MIDI, uno strumento vero collegato al personal computer, andiamo a suonare. guardate. Ecco qui che... come potete vedere, in realtà noi siamo live, c'è una persona live e abbiamo il codice di una room, stanza. Attenti bene. Inoltre, cliccando sull'ingranaggio settings, questi sono più aspetti ovviamente legati proprio alla musica, in senso stretto, noi possiamo, beh, anzitutto scoprire che stiamo utilizzando la notazione delle note, eccola qui, che se non erro, mi scusi, nei colleghi di musica, risulta essere quella più anglosassone o comunque quella che utilizza le lettere dell'alfabeto, eh, non il classico do, re, mi, a cui siamo forse abituati. Abbiamo la possibilità di valutare, per esempio, quante ottave ci debbano essere, così da avere la composizione della nostra tastiera, con un clic su X andiamo a chiudere questo menu. Ecco, qui naturalmente lo scopo potrebbe essere quello di imparare a conoscere le note, ad osservare quante volte esercitiamo la pressione su un tasto, ma il vero vantaggio è che è possibile, con un clic su Copy Link, diffondere questo link per poter suonare in modalità sincrona la tastiera. Pensate a scenari di DAD, di DDI o in presenza laddove magari ci siano dei dispositivi mobili. Allora, perché avevo aperto la mia casella di posta elettronica personale. Vedete, era già tutto pronto, come nei programmi di cucina, perché io adesso mando a me stesso, ebbene sì, una email dove vado a fare che cosa? Vado ad incollare l'URL che ho precedentemente copiato per poi cliccare su Invia. A questo punto ho un dispositivo mobile, nel mio caso uno smartphone, Android, ma potrebbe essere francamente un qualsiasi altro dispositivo, o un tablet. Richiamo dalla mia posta elettronica, proprio ora, la mail che ho appena ricevuto, quella che mi sono inviato da solo, tanto per intenderci. Vi mostro, ecco, a beneficio di camera, in blu, guardate, mi avvicino, in blu c'è il semplice link. Allora, vedete che ho anche la notifica, meraviglioso, mi dico che mi sono letto il messaggio, pensate un po'. Schermo del dispositivo mobile, click to turn sound on, l'ho fatto. Guardate, tastiera. Chiaramente il consiglio, perché sia efficace, ecco, è quello di utilizzare il dispositivo in modalità landscape, quindi panoramica, automaticamente, se io, andiamo un pochettino, se io suono sulla tastiera a schermo sul pc, vedo e sento in modalità sincrona anche sul dispositivo mobile. Come vedete, siamo due persone e lo scopriamo con accanto, sessione live, due icone di animali che ci sono state assegnate in automatico. Ebbene, questo per suonare in maniera sincrona. Se poi vado a cliccare su save, sul tasto a forma di spunta, questo link, come vedete, che è un altro link rispetto a prima, song is saved, permette di essere copiato, quindi il link può essere copiato, incollato o diffuso con altri mezzi, penso a classroom, penso a altri ambienti di restituzione e a quel punto non abbiamo più il pianoforte sincrono ma la registrazione di ciò che abbiamo suonato. Faccio clic su copy link, tanto per intenderci, ormai lo sapete, quando si fa questo genere di prove è conveniente cliccare sui tre pallini in alto a destra, cliccare su nuova finestra di navigazione in incognito, clic con il tasto destro, vado poi a cliccare con il tasto sinistro su incolla e vai, lo sapete, si apre apparentemente il pianoforte di prima, attendiamo qualche istante, ma in realtà qui, sì, clicchiamo su click to turn sound on, senza dubbio, però ora osservate, questa è la registrazione di ciò che abbiamo fatto, non è più, ora la stop, abbiate pazienza, non è più in realtà il pianoforte sincrono ma è un ascolto asincrono, possiamo cioè far ascoltare in un secondo momento le note, i suoni che abbiamo prodotto. Ecco un modo carino, un pochino diverso dal solito di conoscere la musica e di utilizzare gli strumenti digitali come una risorsa per unire due mondi che apparentemente forse sembrano non così vicini ed invece, soprattutto nel 2021 lo diventano. Vi saluto lasciando a voi la prova pratica su strada e invitandovi ad essere curiosi perché, ne parlerò credo in un prossimo videocorso, ci sono altri experiments qui su questo portale dove ad esempio la musica è possibile anche suonarla e vederla graficamente, ma non voglio dirvi di più. Un caro saluto a tutti e a tutte da Andrea Cartotto con un grazie sempre per la fiducia e l'affetto con cui mi seguite. Ciao!